Arriva la mezzanotte buia, nasce il bambinello, alleluia, alleluia. Mamma, perché Gesù è nato in una grotta? I genitori non avevano neanche una casetta, nemmeno una stanza a caldo con un lessino per evitare il freddo a Gesù bambino. C'era solo il calore nella mangiatoia, ma Giuseppe e Maria vivevano grande gioia. Nella grotta c'era tanto gelo e per coprire Gesù mancava persino un velo. Così Gesù dimostrò tanto affetto ad ogni bambino che nasce poveretto. Buon Natale, buon anno ai bambini del mondo che nulla hanno! Grazie mille! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.